L'avrei abbracciata al massimo. Ma quindi non mi abbracci. C'è un grande problema. Dimmi. Che soffro il caldo. Pur io. Quindi fisicamente mi so... Se ti tocco il capezzolo, è sessuale. Devo chiedere un attimo. Eh. Alla finanza della poeta. Eh, lo so, lo so. Ma la capisco, eh. Non farò lo scossumato. Era il mio manager. Era quello con cui hai parlato prima. In realtà sembra buono. Non lo è. Mi spacca il culo. Eh, me l'ha detto che tu sei un po' così, eh. Così come? Eh, me l'ha detto un po' di cose che... Che ti ha detto? Farò. Non... Davvero? Mi viene l'ansietta, eh. Non dormo la notte. Me l'ha detto un po' di cose. Ti dico dopo, dai.